Tutti davanti a Grato Sol, via Baroni 9, oggi riapre il Pimoc, oggi si ricomincia con il teatro in Grato Solio. La sera di Marte, la stagione del Pimoc, venite al Pimoc, stasera festa! Buonasera, benvenuti a teatro. Nicola, che cos'è questo? Questo è teatro, Jacopo è teatro, solo teatro. Nicola? Sì, Jacopo? Cos'è il teatro? Non facciamo teatro, vero? No, non ti preoccupare, non facciamo teatro. Basta! Basta con il teatro e invece diamo voce alla box! Sì, era questa la grande ideola dei Tony Clifton, un incontro di box! Sì, era questa la grande ideola dei Tony Clifton! Grazie!